Confortante successo della VL che spugna il complicato campo di Pistoia per 73 a 74, costruendo la sua quinta vittoria stagionale su un ottimo primo tempo, sulla tenuta in difesa durante la rimonta dei Toscani e sulla lucidità nei momenti punto a punto del finale. Dopo un primo tempo chiuso avanti di 9, la VL gioca da collettivo conquistando una vittoria grazie a 4 giocatori in doppia cifra, su tutti i 19 punti di Visconti, autore di una prova superlativa, come ottimo risulta il debutto di Cinciarini che sforna una decina di assist. In Serie B gioisce anche l'Ital Service Loreto Basket che nell'ultimo appuntamento casalingo del 2023 vince 67 a 61 contro l'Amatori Pescara. Nel calcio occasione sprecata per la Vispesero che al Benelli fa 2 a 2 nello scontro salvezza col Sestri Levante. Non basta la sorprendente doppietta di Carson, l'islandese porta avanti la vis al trentesimo su assist di Di Paola ma il Sestri pareggia con Sandri dieci minuti dopo. Sembra fatta quando Carson coge del bis al novantesimo ma messa palla al centro la vis si fa incredibilmente riprendere dagli avversari che pareggiano subito con parlanti approfittando di una colossale dormita difensiva. Continua invece il buon momento della Megavox Vallefoglia nella massima serie di pallavolo femminile. A Pesero le Tigri battono in 3-7 Casal Maggiore con i parziali di 25-15, 25-22, 25-21. Vittoria che dà corpo a una risalita in classifica che rende ancora possibile il raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia. Nell'ultimo match dell'anno invece la Fiorini-Pesero-Rugby combatte al Toti-Patrignani fino all'ultimo ma cede 18-22 ai Veneti del Rugby Paese. Partita punto a punto in cui ai Kiwi non bastano le mete di Fusco e Antonelli accontentandosi di muovere la classifica di un solo punto.